Ciao a tutti! Oggi sono qua per consigliarvi delle idee regalo budget friendly. Sono sempre stata infatti convinta del fatto che valga più il pensiero rispetto all'oggetto fisico, al regalo in sé. L'intenzione. Non a caso mi piace molto personalizzare non soltanto il regalo ma ad esempio anche la confezione per far passare proprio il messaggio che al di là di quello che c'è dentro la confezione, al di là di tutto, il pensiero con cui è stato fatto appunto di affetto. Ogni anno su questi schermi vi beccate diversi video dedicati al Natale, quindi vi lascio nelle schede qua sotto in descrizione la playlist dedicata ad altri consigli regalo. Cerco ogni anno di non ripetermi, di proporvi qualcosa di nuovo e trovate inoltre dei tutorial non soltanto di cucina ma anche per le decorazioni, come realizzare le confezioni regalo, eccetera eccetera. Quindi se siete curiosi andate a dare una sbirciatina. Prima di iniziare vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, mettendo mi piace a questo video e commentando qua sotto. In più potete offrirmi una simbolica tazza di cioccolata calda con panna montata attraverso Ko-fi. Il link è qua sotto in descrizione, così come troverete tutti i vari link e codici sconto da affiliata, attraverso cui potete acquistare quello che più volete e una percentuale va a sostenermi. Quindi vi ringrazio davvero di cuore. Il periodo natalizio non è tale per me senza una tazza bollente di qualcosa, che sia caffè, tè, cioccolata calda, infuso, qualsiasi cosa. Direi di partire proprio con le basi perché probabilmente uno dei regali più consigliati da fare nel periodo natalizio è la tazza. Le bevande calde, soprattutto nel periodo festivo, non possono mai mancare. Dal tè al caffè al cioccolata calda, all'infuso, eccetera eccetera. Ok, non è un'idea originalissima, però può essere un'ottima idea, soluzione, se non sapete che cosa fare. Se state cercando un'idea regalo che non sia particolarmente costosa, in più la tazza può fungere anche da vero e proprio pacco regalo. Nel senso che potete facilmente riempire la tazza con ad esempio una tisana, delle bustine di tè, creare la vostra cioccolata calda, fare un preparato e metterlo all'interno. Altra soluzione molto budget friendly connessa alla tazza può essere una buona busta di tè, di infuso, di tisana. Se ne possono trovare tantissime, soprattutto in questo periodo dell'anno, nei vari mercatini di Natale, nei negozi dedicati a tè o caffè, si possono trovare facilmente anche online, ma potete farlo anche voi. Come vi dicevo, secondo me vale molto di più il pensiero. Quindi, anche se non sapete dove poter reperire un tè particolare o altro, se sapete i gusti della persona a cui volete fare un regalo, vi basterà anche semplicemente andare al supermercato, prendere il tè preferito di questa persona o uno che possa piacere e magari rivoluzionare un po' la confezione. Magari togliete le bustine e le mettete in un sacchetto che fate voi, oppure potete decorare il cartoncino mettendoci della carta regalo e dei disegni, stampare delle foto e appiccicarle sopra. O come vi dicevo, usare una tazza o un qualsiasi contenitore, anche di seconda mano, ci sono tantissimi mercatini in cui poter trovare anche queste cose o qualcosa che magari avete in casa e non utilizzate più, che può quindi fungere anche da contenitore. L'unico limite è veramente l'immaginazione e la fantasia, quindi anche una cosa molto semplice, facilmente reperibile, ad un costo molto accessibile, può essere trasformato in qualcosa di unico e di speciale. Altre soluzioni per chi ama le bevande calde che si trovano facilmente su internet sono ad esempio gli scaldatazza con ad esempio la presa USB che si attacca anche al computer per tenere in caldo il tè o il caffè durante la giornata lavorativa, ci sono anche dei copri di teiera o tazza per non bruciarsi le mani quando si va poi a bere, degli infusori, anche questi si trovano a prezzi veramente ridicoli ma di forme molto particolari, l'arigatto, l'amantino, ce ne sono veramente un trilione, quindi anche in questo caso dipende molto dai gusti della persona a cui andate a fare poi il regalo. Spostandoci verso la categoria diciamo così cura della persona esistono tantissimi kit natalizi o kit in generale che vengono proposti in particolare sotto alle feste, sia online che nelle profumerie diciamo fisiche, dalle creme corpo alle creme mani, burro cacao, trucchi, maschere viso, veramente ce n'è di ogni rispetto a qualche anno fa quando si puntava sulla magica trousse intramontabile di pupa che ogni anno propone appunto queste trousse di trucchi, dalle forme un po' particolari e carine, io scommetto che almeno una volta nella vita avete ricevuto una trousse pupa di questo tipo per Natale, al giorno d'oggi ce ne sono veramente di ogni e veramente per tutti i prezzi, anche sotto i 10 euro. Un'altra idea regalo molto carina può essere una pianta, dei fiori o tutti gli accessori connessi alla cura delle piante e dei fiori, ad esempio un vaso per piante o fiori, fiori secchi che quindi durano più di semplicemente qualche giorno o settimana, ma appunto durano per sempre, anche in questo caso ce n'è veramente per tutte le tasche. Un'idea molto carina che avevo trovato su Etsy, ma penso che si riesca a trovare facilmente anche ad esempio su Amazon, sono dei vasi piccoli che hanno una calamita e quindi si applicano facilmente al frigorifero. Possono essere molto carini per metterci dentro ad esempio quei mini cactus che molto spesso si trovano dal fioraio per 50 centesimi, 1 euro, 1 euro e 50 insomma quelle piantine piccole, ma volendo si può mettere anche una pianta finta se proprio non si vuole rischiare. E' un'idea secondo me molto carina per decorare appunto anche il frigo se si ha la possibilità appunto di appiccicarci delle calamite. Vi lascio sempre nelle schede qua sotto in descrizione, un video che avevo dedicato alle mie piante d'appartamento preferite, la maggior parte sotto ai 30-20 euro che veramente durano un sacco anche chi non ha magari il pollice verde o è convinto di avere il pollice nero. Natale per me è anche giochi da tavolo, penso che sia uno dei regali più belli da fare per chi è appunto appassionato, comunque a chi piace giocare e stare in compagnia, insomma condividere il tempo con qualcuno, ci sono tantissimi giochi da tavolo, alcuni molto belli in questo caso si va a spendere un po' di più, quindi dipende molto dal vostro budget, però ce ne sono veramente di ogni tipo anche ispirati ad esempio alle serie tv del cuore. Io ho Cluedo e Monopoli nella versione Il Trono di Spade, ma ce ne sono veramente di ogni tipo, basta semplicemente fare una ricerca su internet e trovo che siano veramente molto molto carini. Ci sono anche giochi ad esempio per due persone, io passo praticamente tutto il mio tempo con mio marito, quindi molti giochi di società in due non funzionano così tanto, ce ne sono alcuni che si possono fare anche semplicemente in due, ad esempio Battaglia Navale, un gioco di carte molto divertente è ad esempio Exploding Kittens, ma anche banalmente uno. Alla fine è il pensiero che conta e secondo me un gioco che si può anche fare assieme alla persona a cui regalerete poi questo dono, è un'idea molto carina. Parlando di personalizzazione ispirato a serie tv, film, videogiochi, magari anche libri, possono essere molto carine le magliette o felpe a tema o ad esempio i calzini. So che molti odiano ricevere calzini per Natale, a me piace tantissimo invece come regalo, devo essere sincera, di solito punto sempre i calzini di Oisho che sono morbidosi, caldi e molto spesso hanno delle fantasie ispirate proprio al periodo invernale o natalizio, a forma di animali o meno, sono anche pelusciosi, ma ad esempio su Pampling, così come in tantissimi altri siti di questo tipo, si possono trovare molte magliette, accessori, calzini come vi dicevo, con delle stampe o delle fantasie ispirate appunto a videogiochi, serie tv, film, eccetera eccetera. Altra idea a regalo secondo me molto carina è regalare un abbonamento digitale che può essere ad esempio di audiolibri, di servizi come ad esempio Netflix, quindi per guardare online, in streaming, serie tv, film, eccetera. Ce ne sono veramente tantissimi, penso che adesso ce ne siano anche dedicati agli ebook, quindi dipende molto dai gusti della persona a cui volete fare il regalo, però ad esempio pensando all'abbonamento di audiolibri penso che sia un'idea molto carina, perché in questo caso si può ad esempio stampare un biglietto personalizzato con il codice regalo della scheda, dell'abbonamento, potete farvi un QR code, anche in questo caso basta veramente digitare su Google come creare un QR code personalizzato ed è fatto, è molto più facile di quanto non sempre, anche in quel caso potete creare qualcosa quindi di personalizzato, un biglietto, incorniciarlo poi oppure piegarlo a modi di origami, penso che sia un'idea veramente molto carina per rendere ancora più personalizzato il dono che state facendo. A proposito di origami, visto che l'ho accennato, un'altra idea secondo me molto carina, budget friendly, alla portata veramente di chiunque, sono i segnalibri, comprati, fatti da voi, in ogni forma, secondo me sono un pensiero veramente molto carino e anche molto molto facile da personalizzare. Io tempo fa avevo fatto un tutorial su come fare dei segnalibri appunto a modi origami, ma ce ne sono un trilione online, soprattutto qua su YouTube ce ne sono veramente tanti, quindi vi basterà scegliere magari una forma che vi piace particolarmente e il gioco è fatto. Se poi volete sostenere uno small business vi consiglio di guardare su Etsy o Instagram e cercare la parola chiave segnalibri personalizzati perché ce ne sono veramente tantissimi da disegnati a mano, dipinti a mano, segnalibri magnetici, classici in carta, fatti in legno, insomma veramente l'imbarazzo della scelta. Sempre per lettori può essere un'idea molto carina la lampada per leggere la sera, dipende di nuovo dalle abitudini del lettore, però è un'idea secondo me molto carina, oppure le copertine tra virgolette per i libri, quindi realizzabili anche a mano se ne siete in grado, delle confezioni, delle buste diciamo imbottite dove poter inserire i libri e i fumetti quando si viaggia o ci si sposta. Per un lettore poi che cosa c'è di più bello di una tote bag personalizzata? Anche qua si apre un mondo perché in realtà ce ne sono tantissime e so che le borse di tela così piacciono tantissimo non solo ai lettori ma veramente a chiunque. Se ne trovano di ogni dipinte a mano, personalizzate, ispirate magari a un libro, un fumetto. Questa ad esempio è uscita per i dieci anni dall'uscita della profezia dell'armadillo di Zero Calcare. Visto che è una serie che sta andando molto in questo periodo, magari molte persone si sono avvicinate o molte persone in generale sono fan di Zero Calcare, questa è veramente una perla. Non è acquistabile così separatamente ma prendendo due titoli dal catalogo Baupublishing, arriverà poi anche il video dedicato ai libri e fumetti che vi consiglio di regalare, è in omaggio su diverse piattaforme, librerie fisiche, anche indipendenti. Vi basterà chiedere al vostro libraio di fiducia oppure nelle grandi catene come ad esempio Feltrinelli e Mondadori. Ci sono però tantissime borse di tela che si possono acquistare ovunque. Penso che ogni persona con un shop online abbia ormai la sua versione di tote bag. Ai mercatini si trovano facilmente anche di seconda mano, realizzate non dico su misura, però personalizzate in un qualche modo. Può sembrare un'idea banale, semplice, ma in realtà fa la sua bellissima figura. Una cosa che secondo me fa sempre molto piacere ad esempio ai genitori, parenti, ma potrebbe piacere molto anche agli amici secondo me, è il calendario personalizzato. Per la famiglia magari lo si fa con le foto appunto di famiglia, per gli amici potrebbe essere carino. Se avete qualcuno che magari ha degli animali, realizzare il calendario con le foto del suo gatto, del suo cane, del coniglio, del criceto, quello che è. Secondo me è un'idea veramente molto molto carina. Oppure far stampare una foto, ve la stampate voi a casa, e prendere una bella cornice o realizzarla voi, o recuperarla ad esempio da un mercatino di seconda mano, eccetera. Come vi dicevo è proprio il pensiero che conta. Secondo me queste cose uniche, perché fatte su misura per la persona personalizzate, sono veramente ancora più speciali, diciamo così. E anche in questo caso, se avete un amico o un'amica con un gatto, un cane, anche solo stampare una foto del loro animale, incorniciarlo secondo me è già una bellissima cosa, farà molto molto piacere. Altre idee super budget friendly, le confezioni regalo con il cibo. Ce ne sono già fatte che potete facilmente trovare anche, non nei supermercati, forse sì, ma anche nella vostra rosticceria di fiducia, o dal vostro macellaio, dal fruttivendolo, eccetera. A volte fanno queste iniziative, anche online se ne trovano, ma potete anche prendere banalmente una scatola che avete a casa, un cesso che vi è avanzato e riempirlo di snack. Cibi che, sapete, piacciono particolarmente alla persona a cui li state regalando. A me viene in mente, ad esempio, appunto gli snack un po' più particolari, tutte quelle cose comfort food che si mangiano in particolare nel periodo natalizio. In questo caso potete riempire il cesso con quello che volete, personalizzarlo quindi in questo modo, ma anche aggiungere in base al budget che avete. Magari in mezzo ci potete anche inserire, che so, delle formine per fare dei biscotti natalizio, biscotti in generale, o una teglia particolare per dolci, di nuovo dipende dal budget, però si possono aggiungere anche delle piccole cose per la casa o la cucina che possono sempre far comodo, che sono carine nel periodo natalizio. Sono sempre io, non spaventatevi, ho avuto problemi tecnici con la fine di questo video, quindi lo devo rigirare. Tornando alle idee del regalo, se avete un qualche tipo di talento, umanualità, questo è il momento migliore per sfruttarlo. Dal decoupage, alla maglia, all'uncinetto, fai detaino, ogni sua forma. Oppure potrebbe essere il momento migliore per iniziare a sfruttare magari qualcosina che avete in casa e che non sapete come recuperare o cui dar nuova vita, diciamo così. Piuttosto che fare qualcosa di impersonale, giusto per avere qualcosa di fisico, di materiale da regalare a un'altra persona, che poi magari si rivelerà un oggetto che non si andrà mai ad utilizzare, che si andrà a buttare o a riempire, non so, uno spazio in casa, eccetera. Sia meglio puntare su qualcosa che abbia un vero valore, anche non materiale per l'appunto. Negli ultimi due anni in particolare, penso che tutti noi ci siamo ritrovati un po' a riflettere su tante cose importanti della nostra vita. È stato un periodo molto difficile anche a livello economico per tantissime persone, quindi non credo che la mancanza di un regalo o di un regalo particolarmente costoso possa segnare in alcun modo una persona. Io spero vivamente che questi anni ci abbiano portato ad empatizzare maggiormente con le persone, a metterci nei loro panni e a capire quali siano le cose veramente importanti nella vita. Nessuno dovrebbe sentirsi in obbligo di fare un regalo, di spendere necessariamente dei soldi per qualcosa che poi magari non lo rappresenta o non verrà appunto utilizzato. So che il periodo delle feste poi non è rose e fiori per tutti quanti, quindi a maggior ragione secondo me non dovreste sentirvi in difetto o sentire la pressione, l'ansia di soddisfare determinate aspettative. Io spero con questo video di avervi dato appunto qualche spunto, qualche idea, magari vedendo parlare anche di cose banali come ad esempio le tazze o i kit, vi si è accesa una lampadina per qualcosa appunto da fare. E ripeto, nessuna pressione in questo senso. Io spero vivamente che il periodo di dicembre, Natale in particolare, possa essere sereno per tutti quanti voi, ovunque siate, da soli, con la famiglia, con gli amici, non importa. Di nuovo spero che questo video possa esservi utile, fatemi sapere qua sotto nei commenti quali altre idee budget friendly vi sono venute in mente in modo da arricchire e aiutare ulteriormente chi ci sta seguendo. E nulla, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!